Perchè non rispondi, Frank? Le dico che non ci sei, ok? Ehi, Frank, sei proprio un bello stronzo. Tu sai di cosa sto parlando, brutto scarafaggio del cazzo? Non sai cos'è un asa, Frank? Un porco. Uno che non riga dritto. Uno come te. Io con te sono stato leale. Mi sono dato da fare improprio. Ma non ho mai fatto niente contro di te. Mai. Tu no. Un uomo che non mantiene la parola. È uno scarafaggio. No. Non può fare improprio. C'è un uomo.